Ti ringrazio, fa molto piacere anche a me essere qui questa mattina perché è un utile positivo a questo momento di incontro. Io voglio seguire le indicazioni iniziali e quindi immaginare una rapida introduzione toccando alcuni dei punti sui quali maggiormente sono impegnato all'interno relazione del governo per poi magari immaginare in un secondo giro di poter dare risposte puntuali rispetto anche ai quesiti posti e al confronto che dovesse seguire. Prima considerazione, il mio ministero e la delega ha una dizione che è singolare rispetto alla quotidianità, rapporti con le regioni. Evito il giudizio o il merito delle questioni, mi limito alla considerazione dei rapporti con le regioni che sono come evidenti rapporti che vanno da momenti di collaborazione ai momenti di grande tensione, sul fronte del rapporto con le regioni si giocano molte delle questioni alle quali voi fate riferimento o con le quali voi insegnate quotidianamente. Se è vero come è vero che faccio solo questo cenno, dopo la modifica del titolo quinto della Costituzione molti di voi hanno avuto modo di verificarlo e constatarlo direttamente qual è la complessità del rapporto tra Stato e regioni su un tema che mi vede ahimè protagonista che è quello di proporre le impugnative presso la Corte Costituzionale verso le leggi regionali che vanno oltre le competenze indicate. Quando accenno a questo accenno a tutti i temi di interesse di tutti i colori che sono intorno a questo tavolo sostanzialmente. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è collegata ad una necessità di un intervento sostanziale di funzionamento di un meccanismo qual è quello del rapporto Stato-Regioni sul quale si è discusso molto e che ha un anello mancante dal punto di vista costituzionale che è quello del cosiddetto Senato federale e che oggi noi abbiamo affrontato e stiamo affrontando innanzitutto a Costituzione vigente con una riforma importante che è stata parata proprio dieci giorni fa dal Consiglio dei Ministri che sarà oggetto di discussione nei prossimi giorni che è un disegno di legge delega che riorganizza complessivamente il funzionamento della conferenza Stato-Regione della conferenza unificata. Luogo nel quale fino ad oggi ci si è organizzati più con una sensibilità politica che per quanto ognuno di noi il governo regioni possa avere non è incertamente un modello che può costituire un riferimento di un sistema economico e sociale del nostro Paese. Due altri temi come spunto anche seguendo un po' le competenze e gli interessi di tutti coloro i quali partecipano oggi a questo incontro seguendo anche le indicazioni introduttive. Il primo è collegato al Piano Nazionale per il Sud. Piano Nazionale per il Sud che è un tema sul quale il governo sta lavorando intensamente da diversi mesi. Io ho avuto modo di completare proprio nei giorni scorsi un giro in tutte le regioni. La sintesi la faccio con due riferimenti. Il primo è quello che è alla base del Piano, cioè la concentrazione di risorse su alcuni grandi interventi strategici e non più su mille rivoli di spesa, cosa che ha caratterizzato purtroppo negativamente l'utilizzo delle risorse tanto comunitarie quanto nazionali producendo una inefficacia nelle politiche pur di fronte a importi notevolissimi dal punto di vista finanziario. La seconda questione che secondo me ha anche un rilevo molto importante è quella della capacità di spesa che è anche una conseguenza di quella del primo punto. La capacità di spesa da parte del sistema complessivo del nostro paese, in particolare da parte delle regioni, i dati che abbiamo avuto modo di riscontrare e dopo un periodo di polemiche condividere con tutte le regioni sono dati molto alarmanti sulla incapacità di spesa e sul paradosso che vive il mezzogiorno nel nostro paese, che è quello non di, secondo mio punto di vista, lo dico come regionale, di rendicare altri soldi ma di impegnarsi sulle modalità con le quali riuscire a spendere bene quelli che ci sono, questa è una mia convinzione sulla quale stiamo lavorando a lavorare per dare risposte precise su questo punto. Ultima questione che voglio toccare perché penso sia di interesse è quella di una riforma che pur ha avuto modo di seguire in questi due anni, avendo una delega specifica quella della riforma dei servizi pubblici locali, per comprenderci acqua, trasporto pubblico locale, rifiuti, che ha visto un provvedimento legislativo del governo, che ha visto un regolamento di attuazione da parte dello stesso governo approvato, che ha un pezzo mancante sul fronte della decorazione e che è di stringente attualità, soprattutto sul tema dell'acqua, alla vigilia di un percorso che ci porterà alla celebrazione del referendum, con tutto ciò che comporta in questa riflessione. Tutto questo elenco di problemi accennati rapidamente lo voglio concludere con una cornice che accompagna questa riflessione, che è quella sul fronte della riforma federale, quindi sul federale fiscale, che come è noto ha all'interno della conferenza Stato-Regione, della conferenza unificata, il luogo dove si compongono poi sostanzialmente nel confronto con regioni, province e comune i contenuti dei decreti legislativi di attuazione, così come sono composti i passaggi che hanno portato al baro della riforma della legge 42. Questo è un po' il quadro di riferimento, spero di essere stato breve al punto giusto, non in modo eccessivo. Il quadro di riferimento è una buona giornata, è profittuale, grazie a tutti. Abbiamo appena finito il caffè con con il Ministro Fitto, Ministro le poniamo una domanda, in questa complessità e groviglio di rapporti e di norme, quindi anche di regole, l'Europa delle regioni è anche Europa dei cittadini? Deve diventarlo sempre di più, il lavoro che noi stiamo mettendo in campo è quello finalizzato a modificare le norme interne per rendere il nostro Paese più competitivo nel contesto europeo e dare alle regioni italiane un ruolo maggiore anche dal punto di vista della capacità di incidere sulle decisioni a livello europeo, un percorso che anche a livello europeo si sta portando avanti all'interno del Comitato delle Regioni d'Europa e anche all'interno del Parlamento europeo e ritengo che su questo anche per competenze, funzioni e risorse che vengono attribuite alle regioni è fondamentale cercare di sottolineare migliorando la capacità di incidere da parte delle stesse regioni.